Andrea De Maria, parlamentare PD. Oggi la Camera ha in programma il voto finale sul decreto che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. Con la nuova legge cosa cambierà? C'è una normativa che cambia radicalmente le leggi che regolano la vita dei partiti in Italia, il loro finanziamento, vengono aboliti totalmente i contributi elettorali, si passa a una forma di contribuzione che è basata su erogazioni volontarie dei cittadini, sul 2 per 1000 dell'IRPEF e quindi su un rapporto diretto tra i partiti e i cittadini che vorranno sostenerli con i loro contributi. Un cambiamento molto profondo che parte dalla necessità di ricostruire un rapporto stretto, di incontro, di collaborazione e di scambio fra i cittadini e le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle che aveva presentato tra l'altro 300 emendamenti continua a definirla una legge truffa. Perché su un argomento così delicato non si è cercato un accordo il più condiviso possibile? Della verità noi l'incontro con gli altri gruppi parlamentari, in particolare con il Movimento 5 Stelle, lo cerchiamo sempre su tutti i provvedimenti. La vera truffa la fanno loro agli italiani che li hanno votati perché tutte le volte invece di stare sul merito tengono sempre posizioni ostruzionistiche, distruttive e non contribuiscono a costruire leggi condivise. Io penso che facendo così tradiscono anche quella volontà di cambiamento che tanti elettori che li hanno votato ha voluto così manifestare. Grazie a tutti.